Cari amici, oggi vediamo la Tenways CGO 800S. Tenways è un giovane marchio che nel giro di pochi anni è riuscito a farsi conoscere e apprezzare. Il modello CGO 800S è uno dei suoi cavalli di battaglia e la parola d'ordine di questa e-bike è praticità. La 800 è un efficiente bici pedalata assistita da città spinta da un motore brushless al mozzo e batteria estraibile per un'autonomia fino a 100 km. La trasmissione è monomarcia con cinghia rinforzata ovvero fino a 30.000 km senza manutenzione, pantaloni sporchi di grasso o catena arruginita. Il bello di questa e-bike è la sua semplicità. Leggera come una bicicletta da passeggio ti porta fino a 25 km all'ora con sorprendente facilità mentre il display dalla chiara lettura ti aiuta a scegliere tra i cinque livelli di assistenza. Si viaggia comodi grazie alla forcella ammortizzata e sicuri con il doppio freno a disco. In particolare è molto interessante per l'utilizzo quotidiano sono le frecce integrate nella luce posteriore molto visibili durante le ore notturne. La componentistica è di buon livello, è disponibile in tre colori e in taglia unica che si adatta a tutte le altezze. C'è anche l'app dedicata per l'assistenza alla navigazione. Difficile se non è impossibile racchiudere tutte queste caratteristiche e rimanere come lei sotto i 2.000 euro. Saluti e bike!